il baol sente il pericolo se in una stazione affollata ci sono due lunghe file alla biglietteria in una c'è sicuramente un signore che litigherà col bigliettario per 25 minuti bloccando tutto il baol sceglierà l'altra fila se in un bisunto self service ci sono due posti liberi uno è sicuramente vicino a un signore che è appena stato operato all'intestino crasso e ardo dal desiderio di raccontarvi tutti i particolari mentre mangiate il baol sceglierà l'altro posto se in un cinema ci sono due posti liberi uno è sicuramente dietro una coppia di cui uno non capisce il film e l'altro glielo vuole spiegare ma capisce meno del primo il baol sceglierà l'altro posto se in un treno ci sono due posti liberi uno è sicuramente vicino a un signore che è testimone della verità cosmica sta andando a raduno annuale e da due mesi non fa nemmeno un nuovo iscritto il baol sceglierà l'altro posto il baol presagisce il pesce surgelato la pallotola vagante lo stronzo litigioso i terremoti le inondazioni le maratone cittadine gli ingorghi autostradali l'avvicinarsi delle comete il vomito delle diatome ma non si può vivere solo di paura perciò il baol affronta il pericolo con animo sereno poiché sa che oltre alle brutte sorprese esistono a volte le belle sorprese e può succedere che ciò che sembrava funesto sarà invece propizio questo è scritto nel settimo libro del baolian quello delle bugie perciò ci avventurammo tra le altissime pareti del massiccio degli archivi che dall'alto precipitavano sul pavimento trasparente come lame nell'acqua i miei occhi cercavano quelli splendidi di alice per comunicarle in quel preciso momento tutto il mio amore il mio ritrovato amore il mio restaurato amore per farle capire che comunque fosse finita anche se il destino ci avesse diviso nel più crudele dei modi io le dicevo comunque grazie per aver riportato nella mia vita un sentimento così essenziale e necessario al corretto metabolismo della sopravvivenza quale appunto l'amore e per spiegarle quanto desiderassi pure in quella perigliosa e incomoda circostanza stringerla tra le braccia baciarle appassionatamente la morbida bocca accarezzarle i seni levigarle le cosce massaggiarle le sparle a lesarle le orecchie brucarle il collo azzarnarle il sedere piantala disse lei turbata quando i baol sono molto eccitati eroticamente pensano ad alta voce dietro di noi il professor balser spiegava paterno a rené la mucca in questi archivi dal 10 all'1 sono contenuti brani di realtà su cui gli esperti devono dare un giudizio definitivo se siano cioè trasformabili in nuova realtà conforme allo spirito dei tempi o mantengono caratteristiche di verità irredimibile e pericolosa o comunque assai difficile da manipolare abbiamo qui molti degli avvenimenti politici e sociali degli ultimi anni colpi di stato attentati trame insabbiamenti è una sterminata massa sovrapposta di teorie e dibattiti abbiamo stragi oscure e oscuri delitti su cui sta per calare il sipario di una festosa indifferenza abbiamo biografie di persone oneste che si cercherà di disperdere nella sterminata burocrazia del cinismo e vite di fetentissimi personaggi che si spera di riportare alla ribarta e agli onori del paese ma è davanti all'archivio zero che il più cinico dei cinici ha retraspaventato l'inferno del dolore della sofferenza il magma silenzioso che sta al centro della storia del mondo l'urlo inascoltato il cadavere irriconoscibile la morte inutile il ricordo umiliato dall'archivio zero nulla deve tornare alla luce queste parole risuonavano sotto l'ampia volta sotterranea di cui non vedevamo il cielo e dopo un attimo davanti a noi apparve lo zero un immenso cilindro di metallo che appariva annerito e bruciato agli orli come se un enorme calore interno lo consumasse anzi in qualche punto il metallo sembrava fuso e dalla cima scendevano collate irregolari come la cera di molte candele ogni rozzio era cessato il silenzio era perfetto e spaventoso alice percorse con il suo microcomputero la parete liscia alla ricerca di un'apertura la trovò quasi subito il codice segreto era formato da due parole rinuncia rinuncia una sezione del cilindro si aprì entrammo nell'alone di una luce calda e rossastra le nostre ombre ci precedevano e per un attimo ebbe l'impressione che non fosse biforcuta che vi fossero cioè cinque ombre ma voltandomi vi di solo facce note alice rené balser e naturalmente la mia trucco va all avanzamo con cautela fino ai piedi di una parete ancora più alta delle altre milioni di cassette filmate nastri registrati e vecchie pellicole ne formavano il fittissimo alveare non c'era traccia di scale per salirvi né di congegni per muovere o estrarre le singole componenti sembrava che tutto fosse cementato insieme e fosse impossibile separarne la minima parte e ora come faremo dissi alice al sole braccia verso la parete l'archivio zero sospirò ispirata la verità la fine dell'oppressione la luce meravigliosa che riempirà la nostra vita illuminerà il nostro avvenire come il sole apparendo dietro a un vetro sporco trasforma gli arnesi del fabbro nel tesoro del re così la verità piantala dissi io quando i ribelli sono molto eccitati politicamente pensano ad alta voce alice recuperò l'abituale freddezza e consultò i suoi dati non esiste una mappa completa della realtà primaria disse in quanto il mescolarne insieme gli elementi aiuta a rafforzarne l'indecifrabilità e la segretezza ma da confessioni di vecchi archivisti e di donne delle pulizie nonché delle coraggiose ricerche dei ribelli caduti prima di noi sappiamo quali sono le divisioni in settori là ad esempio a nord est c'è il muro dei torturati in cui sono conservati i filmati di 70.000 morti sotto tortura fatti poi passare per scomparsi nella parete sud in basso c'è la verità sulle stragi di ulpian di meteoro del treno di arzac dell'aereo di baal nome tristemente noti e inoltre la documentazione di 116 incidenti nucleari più su sono conservate tutte le riunioni segrete della mafia dal circolo dei cinque nonni alla statalizzazione e 20.000 omicidi a colori e grappa tax la zona delle opere proibite è situata a circa 16 metri di altezza nella parete nord ovest ed è contrassegnata da cassetta di colore più scuro là c'è il filmato che riguarda grappa tax e il gran gerarga e come faremo a prenderlo è rarissimo che si estraggano cassette dalla realtà zero avviene solo per ricattare qualcuno o per motivi di propaganda come nel caso di grappa tax entro 30 secondi dall'estrazione il computer centrale controlla se l'operazione autorizzata perciò avremo 30 secondi prima che si accorgano che il nostro prelievo è fuori legge in questo mezzo minuto noi prenderemo tre cassette a caso e tu troverai quella di grappa tax ripeto come con i tuoi poteri fai cadere la cassetta giusta giù dalla scansia e attenzione non possiamo prendere più di una cassetta a testa due cassette vicine si autodistruggono per fuggire correremo su per quella scala gialla chiaro guardai in alto tra milioni di cassette una sola era quella buona ci sarei riuscito maestro invocai aiutami e una voce mi disse ci riuscirai baol ma non era la voce del maestro era un uomo con un bellicciotto e un passamontagna aggrappato come un pipistrello alla parete aveva scarpe metalliche una grossa pistola ulana puntata contro di noi a tarva gridò alice sì mia direziosa ribelle disse a tarva ti spiavo da tempo sui miei monitor ho spesso ammirato la tua lingerie e i tuoi tentativi per scoprire i codici segreti ma non temere non ho avvertito nessuno possiedo anch'io i codici di entrata meno gli ultimi due voi li avete perciò mi sono permesso di entrare insieme a voi ora avete anche il codice di estrazione aiutiamoci da buoni nemici cosa vuoi da noi dissi voglio la cassetta 6157 quindi ora baol tu farai cadere non solo la cassettina del tuo vecchio comico ma anche quella cassetta che è molto importante per me io la prenderò e ce ne andremo insieme perché la professoressa o conosce certamente il modo di uscire di qui la professoressa o gridai le spiegazioni dopo disse alice va bene a tarva ognuno avrà la sua cassetta ma dopo che succederà dopo come nella mia natura di baol sfiderò bedrosian perché come dice il baolian quando due baol sono nemici devono combattere finché uno solo resterà vero ma questo avviene una volta ogni cento anni e tu non sei un baol a tarva mostrò il fiocco di neve sulla mano e rise sinistramente io sono il primo baol che ha tradito i baol farò parte della storia baol molto più di te e allora perché non trovi tu la cassetta perché ne ho paura e non ho poteri su di lei nessun baol può far niente contro il suo segreto e tu lo sai bene non è così a tarva disse alice tu non hai nessun potere non puoi trovare quella cassetta perché quella cassetta non si trova qui dentro l'abbiamo fatta noi ribelli bugiarda disse a tarva scendendo con un balzo pensi di ingannarmi noi l'abbiamo filmata e l'abbiamo immessa con un numero falso nei circuiti dei compositori per farvi impazzire prima di te abbiamo sabotato baldini con brani di verità primaria vera guerra sciama l'eccesso di realtà lo ha schiantato io posso sopportare quantità di reale quasi uguali a quelle di una persona normale gridò a tarva ma non quella cassetta perché tu sei composto a tarva non è vero è così qui all'archivio zero c'è la tua vera storia questo vuol dire l'ultima nota della tua biografia questo tu sei tu sei stato rapito a 12 anni dall'azienda dei computeri statali perché eri un appetitoso bambino prodigio i tuoi genitori sono stati uccisi le tue ferite risalgono ad allora quando cercasti di incendiare la casa piuttosto che cadere in mano al regime non è vero è una sceneggiatura maldestra disse a tarva togliendosi gli occhiali e mostrando infine gli occhi glauchi e incavati è così a tarva da allora hai sempre lavorato per loro e il tuo passato veniva ricomposto volta per volta non hai mai avuto una moglie non c'è stato nessun attentato ribelle non sei mai stato baol il tuo odio per i baol è composto tu servi al regime per screditare i baol hai sempre vissuto in quel fetido ufficio sotterraneo tutta la vita una vita miserabile ogni dieci anni ti viene fatta un'iniezione di ricordi e sai perché ora sei qui contro tutti i regolamenti sai perché quella cassetta ti sconvolge tanta tarva perché c'è la tua morte che noi abbiamo già filmato con attori poiché se il tuo passato è composto tu hai paura del tuo futuro composto l'unico futuro per te l'uomo che muore bruciato nel video sei tu a tarva e in fondo al cuore lo sapevi a tarva restò un attimo silenzioso poi parlò con voce tranquilla bella trovata se non fossi un compositore e non sapessi distinguere le storie vere dalle false potrei anche caderci ma ora non c'è tempo per discutere giusto dissi io vedremo più tardi che sei facciamo per quello quello per cui siamo venuti pronti disse alice raccogliete le cassette e poi tutti di corsa sulla scala gialla azionò il micro il micro computer il muro della verità si illuminò di una luce azzurra urlando indicai con un gesto due cassette quelle caddero ne presi una pesava come un macigno a tarva prese l'altra i miei amici erano già sui gradini della scala gialla ognuno con una cassetta mancano cinque secondi disse alice tenetevi la scala gialla era telescopica iniziò ad alzarsi e si elevò sempre più lunga ondeggiando verso la volta dell'archivio facevamo fatica a tenerci in equilibrio aggrappate i gradini mentre un vento geldo ci soffiava incontro salendo verso il buio poi la volta si spalancò per un attimo e un'ultima frustata della scala ci proiettò all'aperto su un terrapieno lungo il quale rotolammo un frastuono indescrivibile ci assordò alzamo gli occhi e vedemmo l'autostrada che portava in città con un gigantesco ingolgo notturno di migliaia di auto l'archivio zero era situato proprio sotto uno dei nodi nevragici della città liberi urlò a tarva e adesso a noi due baolo saltò sul tetto di un'auto io balzai sul tetto di un'altra c'erano già parecchi duelli al cacciavite e scontri a fuoco tra macchina e macchina perciò nessuno ci fece caso che cosa preferisce strappa orta scontro di rimorsi lotta a trattenere il respiro trasformazioni in draghi duello di temperature basse shaolin chansan lu sfida dello scorpione in gola scacchi coi denti a tarva c'è qualcosa che devo dirti se il segreto non mi interessa scendi di lì urlò furibondo il padrone dell'auto sul cui era salito a tarva ma tarva non gli badò lanciò un urlo di guerra e si mise nella posizione di attacco baol quella dell'arco invisibile dalla macchina uscì il proprietario col cric in mano sua moglie armata di catene da neve un gigantesco nonno con badile e tre bambini con fionde sparapulloni a tarva cercò in vano di sottrarsi al loro attacco dalle altre macchine tutti urlavano eccitati e suonavano i clacson cercando di proteggersi dai colpi a tarva si impigliò nel paraurti e si strappo via bellicciotto apparve un corpo divorato dalle piaghe ustionato è infettivo urlò il proprietario dell'auto con un gesto rapido gli strappò il passamontagna dalla faccia apparve un viso quasi normale con una vasta cicatrice su una guancia il viso di un vecchio malato tutto accade in pochi istanti mentre cercava in vano di farmi largo decine di persone buttarono a tarva a terra lo cosparselo di benzina e lo bruciarono per evitare il contagio come nel video a tarva fece alcuni passi avvolto delle fiamme e poi cadde ai miei piedi la cassetta 6157 mi rotolò vicino la presi a tarva riuscì a sollevare un attimo la testa come per dirmi qualcosa poi il fuoco lo avvolse le scintille dei piedi del suo cappotto volarono in alto l'ingorgo durò tutta la notte molti morirono elicotteri della polizia sorvolavano i chilometri di alto forse cercavano noi tornammo in città a piedi sotto una pioggia sottile ce l'avevamo fatta